Come eseguo la scansione della stampante HP in macOS? Se si desidera eseguire la scansione di documenti o foto dalla stampante HP al Mac, procedere come segue. Sul Mac, aprire l'applicazione HP Smart. Se HP Smart non è installato sul computer in uso, scaricarlo dall'App Store. Se a HP Smart sono state aggiunte più stampanti, fare clic sulle frecce per trovare la stampante che si desidera utilizzare. Fare clic sul riquadro Scansione. Se l'accesso all'account HP non è ancora stato effettuato, l'applicazione HP Smart richiede di effettuare l'accesso o di iscriversi a un nuovo account. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per accedere al proprio account. La schermata Introduzione viene visualizzata quando si esegue la scansione per la prima volta. Fare clic su Introduzione. Si apre la finestra Scansione. Nella barra di alimentazione superiore, selezionare un'opzione. Per eseguire la scansione di una foto salvata sul Mac, fare clic su Importa. Per utilizzare la webcam del Mac per eseguire la scansione di un documento o una foto, fare clic su Fotocamera. Per eseguire la scansione di un documento o di una foto dalla stampante in uso, fare clic su Scanner. Posizionare il documento o la foto originale sul vetro dello scanner sulla stampante, oppure nell'alimentatore automatico di documenti, se la stampante ne è dotata. Utilizzare le guide per il corretto posizionamento. Dalla finestra Scansione, modificare le opzioni Origine, Impostazioni predefinite, Area di scansione, Output e Risoluzione in base alle esigenze del processo di scansione. Per consentire a HP Smart di rilevare automaticamente i bordi della scansione, fare clic sulla casella di controllo Rileva bordi. Selezionare l'icona dei miglioramenti automatici per attivare o disattivare le funzionalità dei miglioramenti automatici. Fare clic sul pulsante Scansione per avviare la scansione. Se è stata selezionata la casella di controllo Rileva bordi, si apre la finestra Rileva margini. Regolare i bordi della scansione facendo clic e trascinando i punti blu negli angoli, quindi fare clic su Applica. Viene visualizzata un'anteprima della scansione. Fare clic sull'icona del menu per modificare, sostituire o eliminare la pagina scansionata. Fare clic sull'icona di rotazione per ruotare l'elemento. Nella finestra Modifica è possibile regolare o migliorare il file. Nel riquadro di navigazione a destra, fare clic sull'icona Ritaglia per ritagliare la scansione o ruotarla. Fare clic sull'icona Regola per regolare le impostazioni di luminosità, saturazione, contrasto e altre impostazioni di esposizione. Per aggiungere un filtro alla scansione, fare clic su Filtri. Fare clic su Testo per aggiungere una sovrapposizione del testo alla scansione. Fare clic su Modifica per aggiungere evidenziazioni o altri contrassegni alla scansione. Una volta regolata la scansione, fare clic su Fine. Per aggiungere un'altra pagina alla scansione, fare clic su Più aggiungi. È possibile trascinare le immagini per riordinare le scansioni di più pagine. Per stampare la scansione, fare clic su Stampa. Per salvare la scansione in una cartella sul Mac, fare clic su Salva. Modificare il nome del file, il tipo di file e le impostazioni di compressione, quindi fare clic su Salva. Selezionare la posizione in cui si desidera salvare la scansione sul computer e fare clic su Salva. Per inviare la scansione tramite e-mail, caricarla nell'unità di archiviazione su cloud o condividerla tramite airdrop, fare clic su Condividi. Per inviare la scansione tramite fax, fare clic su Fax. Trova video più utili sul nostro canale di YouTube dedicato al supporto HP. . Grazie a tutti